Ciao belli bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed è arrivato il periodo dell'anno in cui molte persone mi chiedono come faccio ad abbassare la temperatura del mio computer? Probabilmente molti di voi non sanno che nel vostro pc fisso c'è qualcosa di molto molto potente al vostro servizio che si chiama Airflow. L'Airflow o flusso d'aria in italiano è semplicemente appunto una corrente di aria che da una parte all'altra del vostro case passa e vi permette di abbassare le temperature di alcuni componenti e ovviamente vi permette di avere delle prestazioni in più. Per parlarvi oggi di Airflow ho con me un prodotto decisamente interessante dalle prestazioni fantastiche e cioè le nuovissime Silent Wings 4 di Be Quiet. Questa è una Silent Wing 4 da 120 mm ma nel mio pc come state vedendo da qualche b-roll abbiamo delle Silent Wings Pro 4 che sono le nuovissime e più premium non è italiano ma sono le ventole più premium che Be Quiet abbia cacciato fino adesso e che hanno una feature estremamente interessante che andrò a farvi vedere più avanti. Un flusso d'aria standard nel vostro case è quando nella parte frontale entra aria fresca e dalla parte posteriore e dalla parte superiore esce aria calda. Tutto ciò è possibile grazie appunto alla struttura del vostro case che è praticamente uno scatolo che incanala l'aria e che permette ad essa di passare attraverso il corpo dissipante del vostro dissipatore della scheda video, passare attraverso appunto le lamelle del dissipatore della vostra CPU e che appunto poi viene buttata nell'aria circostante al vostro case sotto forma appunto di calore dissipato. Ci sono altri flussi d'aria non convenzionali nel vostro case? Sicuramente. Uno che io ho provato molto spesso è il flusso d'aria verticale. In altre parole ci sono delle ventole nella parte bassa del vostro case che spingono aria verso l'alto così che appunto dato che l'aria calda sale il tutto sia più facilitato nell'exhaust per dire in inglese dell'aria in eccesso, dell'aria calda in eccesso. Quello che starei vedendo adesso è il mio pc da streaming. Al momento al suo interno non c'è nessuna scheda grafica, c'è semplicemente un grande dissipatore per la CPU che è il Dark Rock Pro 4 ma questa cosa cambierà nel tempo e penso nei prossimi video vedrete un pochettino che cosa intendo ma in questo modo riesco a farvi capire per bene che tipo di flusso d'aria ci sia all'interno di questo case che tra parentesi è il Silent Base 802 di Be Quiet che ho recensito qualche video fa e che vi consiglio di andare a vedere se voleste trovare un case dalle ottime performance e esteticamente molto molto carino. Dato che è il momento l'unica fonte di calore maggiore all'interno del case è il processore la parte che deve essere dissipata e aiutata nella dissipazione appunto del calore è il processore stesso insieme al proprio dissipatore quindi al Dark Rock Pro 4 quindi oltre ad avere tre ventole in entrata abbiamo una ventola nella parte posteriore del case che serve a tirare fuori l'aria calda. C'è una regola d'oro in questi casi e cioè se tre ventole tirano aria all'interno del case tre ventole devono tirare aria fuori dal case così si ha una pressione dell'aria bilanciata pressione dell'aria in entrata e pressione dell'aria in uscita attenzione. In questo caso però dato che una Silent Wings Pro 4 è più che abbastanza per dissipare il calore che viene fuori dal Dark Rock Pro 4 perché attenzione il Dark Rock Pro 4 è equipaggiato con due ventole e Silent Wings 3 che riescono comunque a muovere un'ottima massa d'aria calda e hanno una buona pressione statica una sola ventola è abbastanza ma nel caso in cui volessimo aggiungere una scheda grafica all'interno del nostro case magari che ne so una 3080 che comunque riesce a scaldare un bel po' l'aria all'interno di esso dovremmo montare due ventole in estrazione nella parte superiore. Questo perché? Perché come ho detto prima l'aria calda tende a salire e quindi bisogna in qualche modo aiutarla ad uscire dal case. Attenzione però l'aria calda che esce dal case va all'interno della vostra stanza. In questo momento il pc è acceso si sta cacciando aria calda dal case ma la sta buttando tutta intorno ad esso. Quindi uno dei migliori consigli che si possano dare in questo momento è semplicemente arieggiate la vostra stanza. Se avete un climatizzatore potete tenere la temperatura a un livello più bilanciato fatelo ma la cosa che io vi consiglio più che altro è quando comincerà a fare meno caldo aprite la vostra stanza così che il calore possa uscire e possa entrare aria fresca. Adesso però vi faccio vedere un pochettino più da vicino la configurazione del mio pc da streaming così che possiate farvi un'idea di come il flusso d'aria ottimale all'interno del vostro case dovrebbe essere. Come ho detto ci sono tre ventole che spingono aria fresca all'interno del case e una ventola in estrazione che appunto serve a tirare fuori aria calda. Qual è la peculiarità di queste Silent Wings 4? E perché io ve le consiglio come ventole da utilizzare per ottimizzare il flusso d'aria all'interno del vostro case? Innanzitutto è il volume d'aria che viene spostato che è veramente tanto. Ora so che questo non è un test propriamente scientifico ma rende più o meno l'idea della massa d'aria che viene mossa. Questa pressione e questa massa d'aria mossa è anche data dal fatto che la tip clearance e cioè lo spazio che c'è tra la punta della ventola e il bordo della ventola è di un millimetro. Un millimetro è talmente poco da permettere seriamente uno spostamento d'aria molto molto importante e il tutto è aiutato anche dalla forma a imbuto nella parte posteriore della ventola perché appunto l'aria viene compressa e c'è diciamo una specie di effetto turbina che permette al tutto di muoversi più velocemente. Come ho detto questa qui è una Silent Wing 4 ma le Silent Wing Pro 4 sono delle ventole che hanno una funzione veramente speciale e cioè nella parte posteriore del loro corpo c'è una resistenza variabile che a me piace chiamare limitatore nel senso hanno tre velocità una velocità media, velocità alta e velocità ultra alta. Praticamente possono andare a un massimo di 1800 rpm, 2600 rpm e 3000 rpm. Ora capiamoci 3000 rpm sono prestazioni decisamente al di sopra della media perché molte ventole sul mercato anche quelle più blasonate, quelle un po' più costose arrivano a solamente 2600 rpm. Ora dico solamente perché qui ho delle ventole da 3000 rpm ma 2600 rpm sono dei giri veramente alti. A quel punto però sarebbero sorti due problemi. Uno la rumorosità e qui vi ho registrato una clip di rumorosità con un fonometro che non è il più preciso del mondo sicuramente ma che all'interno del case vi dà un'idea di come il rumore sia effettivamente molto molto contenuto. Sentirete tre diversi click che stanno a indicare i diversi rpm delle ventole cioè 1800, 2600 e 3000 rpm. Ma soprattutto se le ventole girano a 3000 rpm 24 ore su 24 cosa che non è possibile perché sappiamo a meno che non abbiate il computer acceso 24 ore su 24 e abbiate delle ventole a 3000 rpm che girano a velocità costante sappiamo che è possibile che le pale delle ventole possano deformarsi perché sapete c'è una forza centrifuga praticamente che ogni volta che c'è un giro spinge le ventole verso la parte esterna del frame ma be quiet ci ha assicurato che queste ventole sono state testate per quattro anni di fila alla velocità massima e non c'è stata alcuna deformazione e se c'è stata praticamente è decisamente come si dice in inglese negligible o in italiano da non tenere in considerazione perché è veramente minima perché le ventole sono fatte in pvc e fibra di vetro quindi sono estremamente resistenti ma anche elastiche quindi sapete davvero ingegnerizzazione a livelli assurdi. Un problema che potrebbe sorgere con poi delle ventole che spingono un flusso d'aria tale è la rumorosità ma come possiamo tranquillamente vedere le Silent Wings 4 sono comunque equipaggiate con dei gommini antivibrazioni che praticamente riducono ogni tipo di vibrazione dovuta alla velocità appunto della ventola con il loro classico sistema a chiodino senza che vi mettiate ad avvitare la ventola allo chassis del vostro pc e soprattutto le Silent Wings Pro 4 dato che hanno questa funzione fantastica di avere una pressione statica molto molto alta e un flusso d'aria mosso molto alto hanno un terzo sistema di montaggio che le rende ideali per essere montate sui radiatori per cui io non so che altro dire queste ventole ci sono in un taglio da 120 e 140 mm sono le ventole che io sceglierei al momento punto per creare un flusso d'aria all'interno del vostro case che sia silenzioso che sia ottimo per le prestazioni e che sicuramente vi darà tante e tante soddisfazioni perché sono delle ventole che veramente vi durano anni in definitiva il flusso d'aria o airflow è un qualcosa che la gente sbaglia spesso e volentieri perché? Perché è estremamente facile da attuare e quando una cosa è facile le persone tendono in effetti a interpretare non a seguire alla lettera alcuni consigli ad ogni modo l'abbiamo detto dall'inizio del video se due ventole sono in entrata due ventole devono essere in uscita per quanto riguarda l'aria potete aiutarvi tranquillamente con non lo so un bastoncino d'incenso per capire quale sia il flusso d'aria all'interno del vostro case e capire quale strada l'aria debba prendere per raffreddare il tutto in maniera efficiente c'è un'enorme differenza tra ventole ad alta pressione statica e ad alto volume d'aria mosso? al giorno d'oggi no e soprattutto non c'è un'enorme differenza quando avete una ventola come una Silent Wing 4 che è in grado di fare tutto, di farlo bene ed è in grado di fare il tutto, farlo bene con una rumorosità decisamente controllata ultimo consiglio che sento di darvi il flusso d'aria è essenziale all'interno del vostro case? assolutamente no però vi aiuta davvero tanto laddove delle componenti si surriscaldano perché ricordate è sempre meglio far passare aria su un componente caldo piuttosto che non farlo assolutamente passare no davvero sembra un consiglio stupido ma questa cosa potrebbe sorprendervi specialmente se avete le fasi d'alimentazione della vostra scheda madre che si riscaldano perché credetemi è molto molto utile avere dell'aria che passa sopra dei pezzi di metallo e che quindi aiuta a dissipare il calore in eccesso quando si tratta appunto di sapete scheda madre, ram eccetera eccetera detto ciò rimanete sintonizzati sul canale perché nei prossimi giorni vedrete un altro prodottino molto molto carino che mi è stato mandato e sarà utilizzato per una build perché ho fatto un upgrade praticamente alla build da streaming ho cambiato scheda madre perché come ho detto più avanti sarebbe interessante mettere una scheda video all'interno della build da streaming e magari farla diventare una build da gaming streaming magari vedere un pochettino come cambiano le prestazioni con l'encoding eccetera eccetera in descrizione ci sono dei link affiliato se voleste vedere un pochettino e provare le Silent Wings 4 di Be Quiet sono delle ventole, sono appunto le migliori ventole che abbiamo provato fino ad ora non c'è null'altro da aggiungere sia a livello di prestazioni che a livello di rumorosità molte volte le ventole sono un componente che viene snobbato perché sì vabbè devono semplicemente muovere aria sì ok ma puoi muovere aria o puoi muovere aria con stile e con prestazioni decisamente decisamente ottime questa era diciamo una rimessa in onda di un vecchio video che ho fatto anche l'anno scorso ma perché perché l'anno scorso non avevo un prodotto talmente buono tra le mani che mi facesse venire voglia di riregistrare un video che avevo già fatto di nuovo fatemi sapere la vostra e ci vediamo al prossimo video ciao ciao belli ciao